Adesso siamo al museo degli Egizi del Cairo 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 Parini, io spero di vedere le tartarughe perché sono giorni che cerco di vederle Adesso siamo al museo degli Egizi del Cairo Da quel momento in cui siamo arrivati queste maledotte tartarughe non ci sono fatte vedere Adesso siamo al museo degli Egizi del Cairo Adesso siamo al museo degli Egizi del Cairo Ragazzi adesso siamo ritornati sull'aereo perché dobbiamo ritornare a casa E' stata bella questa vacanza, noi ci rivediamo al prossimo video, ciao a tutti